Questo era il sarcofago in cui erano contenute le spoglie di sanguido, sono state poi raccolte e attualmente l'urna contenente i resti di sanguido sono nella cappella qua sopra. Questo è rimasto insieme a quei fregi che vedete nel muro, sono opere raccolte e messe in questa zona che è anche la cappella dei Vescovi. Quindi sono sepolti qui cinque Vescovi del ponte Marchese Shandra, dell'Omo e Monzo, sepolti in questa che è la cappella, diciamo così, dei Vescovi.